Io non sono assolutamente d'accordo, sono nettamente contrario alla linea che sta seguendo il Governo nazionale. Io credo che debba prendere un'unica decisione il Governo nazionale. Deve avere una sola zona per tutta Italia, al di là delle zone che oggi stanno meglio o peggio di altre, tranne zone rosse nelle regioni dove abbiamo un tasso di contagio altissimo. La linea delle mezze misure è una linea che serve a prolungare all'infinito l'epidemia e serve soltanto a mandare al manicomio l'Italia, i cittadini e gli operatori commerciali. E' meglio dire a un operatore commerciale che questa è la linea per i prossimi mesi, lavori di meno, ma ti diamo il contributo integrativo, ma puoi programmare piuttosto che riproporre questa linea delle mezze misure e delle cose francamente demenziali. Zona gialla, zona gialla rafforzata, arancione, rossa, un giorno sì, un giorno no. Se voi chiedete a me oggi come diavolo stiamo combinati, io non ve lo so dire. Vi lascio immaginare un povero Cristo di operatore commerciale, un albergatore che cosa deve pensare. Allora, linea unitaria per l'Italia e scelte semplici, chiare ed applicabili. Altrimenti con le mezze misure allunghiamo i tempi dell'epidemia e mandiamo al manicomio il paese intero.